Le lampade sono il più bello oggetto che si può segnare nel campo del design. Senza luce non c'è nulla. Le lampade ti cambiano una casa. Nel caso degli oggetti PES Lamp, devo dire che è stata una gioia, perché è veramente una sequenza di sorprese fantastiche. Questo loro materiale, che accoppiata in questo modo, ci ha dato questa cannettatura che sembra proprio il vetro veneziano. Abbiamo iniziato a giocare ancora di più, un po' come si fa nella moda, quindi ad avere un soggetto e abbigliarlo a seconda dell'occasione. Ognuna richiama un po' un tipo di casa diversa, un tipo di personalità diversa, di emozione diversa. Sono venute fuori delle cose che poi rendono questa lampada, secondo me, unica, che poi è la gioia di ogni designer e di ogni creativo.